Noi siamo in una situazione di difficoltà per l'accoglienza, ma siamo in compagnia, non direi in buona, ma siamo certamente in nutrita compagnia. Perché come noi, tutte le regioni hanno chiaramente una difficoltà ad accogliere e in tempi brevi poter dare luoghi dove collocare queste persone. Ci sono problemi relativi al reperimento dei posti, problemi anche relativi ai contratti, all'amministrazione. L'unica risposta per questo è riuscire ad avere un'assistenza e un'accoglienza più diffusa. Faccio un appello a tutte le comunità locali, già Lanci è mobilitata, tutti i comuni devono fare una valutazione su come rendersi disponibili a un'accoglienza che sia più diffusa. Poche persone in molti luoghi possono essere meglio integrate e possono trovare più facilmente una collocazione.